Siete voi padrone o cameriere? Cameriere, ai comandi di vostra signoria illustrissima Ci date le illustrissime Bisogna rassecondare il lazzo Cameriere! Illustrissima Dite al vostro padrone che venga qui Qui, qui Che devo parlare con lui per il trattamento Cameriere Illustrissima Dite al padrone che venga lì Lì, lì Che bisogna parlare del trattamento